In via Cimarosa, una trada storica della città dove è presente questa chiusura che sembra abusiva del vano di una abitazione. In questa abitazione, tempo fa, è stato rinvenuto il cadavere di un extra comunitario e da questa abitazione emanano profumi abbastanza sospetti. I residenti ci hanno chiamato per controllare e guardate che cosa abbiamo trovato. La presenza di una discarica, questa volta a cielo coperto, all'interno di questa abitazione. Una discarica nella quale si versano sacchetti di immondizia di vario tipo attraverso quel foro o addirittura attraverso questa finestra da cui siamo passati per girare il nostro filmato. Bene, la richiesta dei cittadini è semplice. Si vuole che si intervenga a togliere il muro e ripulire a casa per far ritornare la decenza in questa zona. Grazie!